bilancia carissimi tirate un sospiro di sollievo perché dopo sette anni urano sloggia dall'orbita negativa cosiddetta e quindi magari tante cose che fino a questo momento erano state un po precarie non avevano trovato la loro stabilità erano un po destabilizzanti anche potrebbero invece assumere una forma un po più definita per quanto il momento dei resettaggi non sia ancora terminato però avete al fianco venere giove che sono i pianeti della fortuna quindi qualunque cosa decidiate di trasformare di azzerare di ricominciare siete devo dire in una botte non di ferro d'acciaio la luna è splendida splendente per voi soprattutto nelle giornate di lunedì e un po anche in quella di martedì perché comunque vi dà l'input per fare nel lavoro le cose che hanno bisogno di essere fatte bene e voi le farete bene la fornicazione è ancora bella croccante inebriante bene